Benvenuti guerrieri di Carradia. I giochi Mount & Blade sono sempre stati concentrati principalmente sulle meccaniche, oltre alla pil visivo del mondo di gioco. Nel video di oggi vorrei parlarvi di uno dei miglioramenti che contribuirà a dar vita alle battaglie, mostrando la grinda e la brutalità della guerra. Gli effetti particellari sono uno dei componenti principali degli oggetti visivi in battaglia, ed è una tecnica impiegata per contribuire ad aggiungere l'immersione complessiva nelle battaglie. Una nuvola di polvere che si alza dietro una carica di cavalleria o una spruzzata di sangue da un colpo atterrato con successo ai grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con una corretta indicizzazione, gli sviluppatori garantiscono l'utilizzo fino a 32 mesh su ogni singolo NPG presente in battaglia. Con queste caratteristiche, una volta terminato lo scondro, è facile distinguere le truppe che hanno combattuto e sono sopravvissute nel cuore della battaglia. Ed anche oggi con questo video è tutto. Vi invito come sempre, se vi piace il mio lavoro, di lasciare un bel like, commentare qui sotto e su Discord, condividere il video ed iscrivervi al canale. Brassi fondamentali per la crescita del canale e dei suoi contenuti. Da Nikron, grazie e alla prossima. Ciao!